Dunque ribaltato il giudizio del TARA che aveva bloccato i lavori, per il Consiglio di Stato la filovia sulla strada Parco non è pericolosa e deve essere finita. Collegherà la stazione di Pescara Centrale ai grandi alberghi di Montesilvano, 8 chilometri con un costo superiore ai 20 milioni di euro. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Sindaco, rimosso l'ultimo ostacolo parte ufficialmente il conto alla rovescia, potremmo dire così? Sì, oramai abbiamo messo la parola fine rispetto a una vicenda giudisiaria che dura veramente da troppo tempo perché sono passati 5 sindaci da quando abbiamo cominciato a ragionare su un trasporto pubblico a basso impatto ambientale che adesso è diventato a zero impatto ambientale perché i mezzi filoviari sono tutti quanti elettrici e dopo il percorso dedicato con i fili potranno percorrere la città con il sistema elettrico e quindi con un inquinamento zero. Io penso che un giovane di Montesilvano con la benzina che oramai si sta avvicinando quasi a 3 euro non debba essere costretto a prendere la macchina per andare all'università ma lo possa fare con un mezzo pubblico che ha un orario preciso, un arrivo preciso, un percorso dedicato e questa è la città civile che noi stiamo costruendo. Secondo il Consiglio di Stato le misure di sicurezza da introdurre per evitare scontri tra il filobus, le auto, i pedoni e i ciclisti sono prescrizioni tutto sommato ordinariamente assolvibili da parte del proponente. Su questo credo che non ci siano mai stati dubbi al di là delle parole roboanti di qualcuno che si mette la maglia da professore e che non lo è. Stiamo facendo soltanto quello che nelle altre città già hanno fatto. A Milano hanno festeggiato negli anni scorsi il 115esimo anniversario della Filovia guardando in prospettiva con nuovi investimenti sulla Filovia. A Pescara abbiamo festeggiato, anzi abbiamo celebrato e meno male che abbiamo finito 26 anni di cause. Chi ha vinto in questa vicenda? Io penso che abbia vinto la città, che abbiano vinto i cittadini, spero che abbiano vinto definitivamente, spero di non dover continuare a fare causa per difendere gli interessi di una città che va verso una prospettiva di zero inquinamento. Quando la prima corsa? La tua sta lavorando affinché la prima corsa possa essere effettuata entro la fine dell'anno. Noi ci auguriamo che questo succeda. So che i tempi dipendono anche dal Ministero e dalle prove che dovranno essere effettuate, ma l'obiettivo della tua è questo e mi auguro che il 2024 sia definitivamente l'anno della Filovia a Pescara.